Noi abbiamo pensato di iniziare dalle cose semplici, condividere quello che ci avanza, quello che qualcuno chiama uno spreco, un rifiuto della nostra vita professionale, imprenditoriale, di impresa. Sono giovani e fanno business, ma a differenza degli altri imprenditori, hanno in mente un modello di economia alternativo, fatto di sostenibilità, ambientale e principi etici. Costellazione Apulia, un consorzio nato nel 2001, 60 imprenditori si sono associati unicamente per condividere innovazione e tecnologia e che strada facendo si sono convinti di come un'economia basata solo sulla ricerca del profitto e lo sfruttamento delle risorse non avrà vita lunga. Abbiamo trasformato così il termine negativo di avanzo in un termine positivo che l'economia chiama esternalità. Lo scambio di esternalità, dunque, è il principio creativo che regola il loro modo di fare impresa. Tutto si utilizza, niente si getta, come all'epoca del baratto. E nel paniere degli scambi, gestiti da una semplice piattaforma tecnologica, non finiscono solo i materiali di scarto delle lavorazioni, ma anche le risorse umane, le relazioni, persino il tempo.